Parcheggio in piazzale Ferrovia, Torre del Greco, ritrovo di tossici. Non solo erbe e rifiuti abbandonati in prossimità dell'ingresso nell'area parcheggio, come si vede dalle riprese effettuate dalle telecamere di TV City, numerose le siringhe lasciate a terra. Segno tangibile che l'area si ritrova di tossicodipendenti, soprattutto la sera, e che in zona siano del tutto assenti i controlli. Ma non è questo l'unico problema, dal momento che lo spazio adibito al parcheggio delle auto questa mattina si presentava sporco e maleodorante, una situazione di degrado e anche di poca sicurezza, inaccettabile, considerando che quell'area è una porta d'accesso alla città per chi arriva con le ferrovie dello Stato. E senza contare che lì sono anche ubicati locali del Museo della Marineria Torrese. L'area parcheggio concessa al Comune dalle ferrovie dello Stato è utilizzata dai residenti della zona, dai pendolari e adesso anche dai turisti che arrivano in città. Un biglietto da visita di certo poco edificante che si va ad aggiungere alle altre situazioni di degrado ed abbandono registrate in questi mesi. Un quadro a tinte fosche in netto contrasto con le tante iniziative che l'amministrazione comunale sta portando avanti per promuovere il territorio.